Ciao ragazzi, sono Veronica, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi faremo un quadro di fluid painting con la tecnica swipe. Ho preparato i miei colori, un giallo, un bianco, un blu e il nero che userò per fare lo swipe. Il medium che ho usato è preparato con 50% colla vinilica e 50% fissato. La consistenza dei colori è abbastanza densa. Ho usato due parti di medium e una di colore. Ho aggiunto un po' di acqua fino a raggiungere questa consistenza. Come sempre nella descrizione del video vi elenco tutti i prodotti che ho usato e vi metto anche i link se volete reperirli su Amazon. Ora andiamo ad aggiungere il silicone solamente ad un colore, ossia al nero che sarà il colore che useremo per fare lo swipe. Bastano soltanto poche gocce. Ne vado a mettere 4. Bene, ora siamo pronti per versare il colore sulla tela. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.